L'analisi del livello di sicurezza nella città di Teramo è stata al centro della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuta ieri pomeriggio in Prefettura. Al tavolo hanno partecipato, oltre al Prefetto Fabrizio Stelo, anche i vertici delle Forze dell'Ordine e il Sindaco Giaguindo Adalberto, che ha fornito aggiornamenti sul cronoprogramma degli impegni assunti in tema di videosorveglianza, illuminazione delle strade e delle zone strategiche della città, assunzione di nuove unità nella Polizia Locale. Adalberto ha confermato che la prossima settimana si completerà l'installazione delle ultime telecamere che porteranno il totale a 92, potenziata con assunzioni e mobilità anche da altre amministrazioni la Polizia Locale, che a oggi conta 28 unità. Per quanto riguarda l'illuminazione, il Sindaco ha evidenziato che si sta intervenendo sulla villa comunale. Durante la riunione è emersa anche la necessità di prestare attenzione al consumo di alcolici da parte dei minorenni e alla somministrazione da parte dei gestori delle attività. Gli episodi avvenuti di recente fanno emergere la necessità di attenzionare la problematica relativa alla condizione minorile, ha commentato il Prefetto Fabrizio Stelo.